Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Deuter Speed Lite da 30 litri uno zaino per trekking giornaliero, veramente molto molto interessante adesso noi vediamo insieme pregi e difetti all'interno recensione completa iniziamo come al solito da qualche caratteristica di questo Deuter innanzitutto i litraggi, questo Speed Lite è disponibile nei litraggi da 13, 17, 21, 25 e 30 litri attenzione perché le feature cambiano in base al tipo di zaino che ho andato a prendere ma tutti hanno uno zaino in Air Mesh 3D e nel particolare il mio modello da 30 litri parliamo di uno zaino da 880 grammi adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti iniziamo come al solito dallo schienale in questo Speed Lite 30 come vi dicevo è uno schienale in Air Mesh 3D ovvero diciamo uno schienale che è a metà tra il telato e l'ergonomico è un ergonomico in cui all'interno ci sono diverse parti che vanno a far passare l'aria e tutto sommato devo dire che comunque è abbastanza traspirante non a livello di uno schienale a rete vero e proprio ma comunque diciamo che se la cava abbastanza bene sicuramente è uno zaino molto stabile perché avendo la schiena a diretto contatto con lo schienale così vicino il carico è veramente molto molto stabile complice anche gli spallacci di cui ne parliamo dopo però vi assicuro di avere uno schienale che mi ha particolarmente sorpreso per la sua traspirabilità molto traspirabile è anche la fascia lombare soprattutto visto che è una fascia lombare costruita diciamo più per tenere fermo lo zaino rispetto che scaricare il peso infatti non è pretensionata questo cosa vuol dire che a livello di chili ci possiamo portare al massimo 6-7 chili perché tutto il peso andrà praticamente a sgravare sugli spallacci sulla fascia lombare poi troviamo nella parte di destra una taschina dove andare a riporre un eventuale telefono qualche oggetto e nella parte di sinistra non troviamo nulla per quanto riguarda la clip di chiusura sulla parte anteriore lavora bene non ha nessun problema a livello di spallacci visto che ve lo accennavo già prima anche loro fatti con un ottimo tessuto che va a traspirare veramente molto bene hanno una sezione nella parte superiore abbastanza normale niente di troppo grosso ma soprattutto la cosa interessante è che vanno a ingrandirsi pian piano che scendono sul petto diventando quasi uno zaino da trail running infatti nella parte bassa degli spallacci troviamo nella parte di destra sullo spazio di destra una taschina dove andare a riporre una barretta, un telefono e un piccolo fibbia per riporre gli occhiali e nella parte di sinistra invece troviamo una tasca vera e propria chiusa da una cerniera in cui andare a riporre anche qua qualche oggetto che vogliamo tenere a portata di mano soprattutto molto interessante che vada ad allargarsi da parte inferiore perché fa sì che riusciamo a scaricare molto bene tutto il peso degli spallacci anche sul petto e naturalmente non manca il passante pettorale per andare a chiudere gli spallacci con all'interno del fischietto continuiamo a parlare di questo Deuter Speedlight 30 passando dalla parte posteriore iniziando da uno dei suoi due lati vi farò annuncio che i lati sono simmetrici quindi ne vediamo solamente uno innanzitutto cosa troviamo? nella parte inferiore una grossa tasca rete dove andare a riporre una borraccia si fa abbastanza fatica a prenderla e riporla in autonomia perché comunque il taglio è abbastanza orizzontale e poco verticale quindi è un po' difficile però inoltre abbiamo anche due fibie, una superiore e una inferiore che posso andare a stringere in modo tale da andare a ridurre anche la grandezza dello zanio quando lo usiamo da semi vuoto queste li possono benissimo aprire con una clip se volessimo in quella inferiore fa sì che anche riusciamo a tenere chiusa la tasca rete della borraccia passando alla parte posteriore vera e propria beh la prima cosa che salta all'occhio è questa enorme tasca rete posta nella parte proprio posteriore in cui possiamo andare a infilare dentro quello che vogliamo perché veramente è enorme ci stanno all'interno anche un paio di indumenti belli grossi la tasca è veramente molto molto generosa poi nella parte laterale destra e sinistra troviamo la possibilità di poter portare o due bastoncini sdoppiati oppure da una parte un bastoncino e dall'altra la piccozza e vi dico piccozza perché questo zaino potrebbe essere utilizzato anche per fare del semplice alpinismo in quanto ha una desi chain posta sui due lati un po' una destra e una sinistra ed è perfetta anche per andare ad attaccare un eventuale helmet holder quindi diciamo che si riuscirebbe a fare un semplice alpinismo una via ferrata portando il casco nella parte esterna e anche una picca per quanto riguarda invece la sacca dello zaino questa è unica nel senso che tutto quello che andremo a riporre nella parte inferiore dovremo completamente svuotare lo zaino per riuscire a riprenderla non ci sono aperture secondarie per quanto riguarda invece l'apertura principale quella superiore molto classica si va ad aprire tirando la parte esterna del cordino e ritirando lo stesso cordino si va a chiudere quindi molto molto semplice per quanto riguarda invece il cappuccio qui troviamo due tasche un'esterna e un'interna molto generose entrambe ci sta all'interno davvero abbastanza materiale e soprattutto ottimo che ne troviamo due perché al solito sul zaino di questo ritraggio se ne trovo anche solo una per quanto riguarda il comparto acqua come vi dicevo nella parte esterna riusciamo a portare due borracce una destra e una sinistra nella parte interna c'è la possibilità di portare una vescica fino a 3 litri con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore ma non è compreso un rain cover quindi se dovessimo beccare l'acqua lo zaino si andrebbe a bagnare almeno che non lo proteggiamo noi in qualche modo a livello di materiali devo dire che sono veramente molto soddisfatto ho utilizzato davvero tante escursioni questo Deuter mi ci sono trovato molto molto bene devo dire che alla lunga sta dando veramente delle ottime soddisfazioni poi comunque parliamo di 880 grammi di zaino quindi in 30 litri quindi veramente un peso piuma è uno zaino che adesso ve lo dirò nelle conclusioni ma è sicuramente ben fatto dunque arriviamo alle conclusioni per questo Deuter Speed Lite 30 innanzitutto il prezzo viene venduto a un prezzo di 110 euro online ve lo consiglio? assolutamente sì secondo me questo è un ottimo candidato a essere uno dei migliori zaini per escursione giornaliera di questo 2023 come dicevo è disponibile in tantissimi litraggi e fate un po' attenzione perché in base al litraggio può cambiare qualche feature può cambiare un po' la struttura dello zaino però veramente a me ha soddisfatto tantissimo il peso esiguo ovviamente 880 grammi è come trasportare una piuma ci sta dentro tanto materiale comunque in questo caso parliamo di un 30 litri materiali ottimi mi è piaciuta tantissimo la possibilità nella parte anteriore degli spallacci di portare anche degli oggetti come svolse uno zaino e una trail quindi veramente soprattutto poi anche molto polifunzionale perché come vi dicevo possiamo anche utilizzarlo all'occasione come zaino per via ferrata o per del semplice alpinismo come vi dicevo all'occasione se succede di farlo una volta all'anno non di più però sì secondo me questi sono 110 euro veramente molto molto ben spesi e detto ciò ragazzi in una speranza sia stato esattamente sostitivo anche per questo video vi ringrazio l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao